Un caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. Un saluto da Fabio Charesse e da Luca Marcheggiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Grazie Fabio, mi auguro di assistere a una bella partita insieme a te e a tutti gli appassionati del bel calcio. E ora si fa sul serio, si parte, Messi prova a giocarla in profondità, Messi cerca di allungare il gioco, e questo è un passaggio quanto meno discutibile. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, palla larga e in profondità, Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. E fa a colpire di testa, rete! E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Ha difeso benissimo il pallone, con il fisico, poi si è coordinato e è andato al tiro. Il Barcellona comincia malissimo la gara. Messi. Cristiano Ronaldo cerca di pescare il compagno là davanti e trova il compagno, Cristiano Ronaldo! Beffa l'estremo difensore! Oggi sono usciti dallo spogliatoio con una determinazione feroce. 2-0 dunque. Un gol determinante, con due reti di scarto, possono anche permettersi di gestire la partita. Messi. Fase di stallo. Cristiano Ronaldo. Il suo pallone è morbido. Messi. Cristiano Ronaldo è con questa la palla. Cristiano Ronaldo. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Cristiano Ronaldo scatta verso il pallone. C'è il tiro! E arriva il gol! Un 1-2 veramente da K.O. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Si riparte dal 3-0. Si riparte dal 3-0. Messi. Messi. Bella rete di passaggi. Messi. 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 Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Vuole la profondità. Cerca un compagno. Non può sbagliare. Colpisce il pallone. Vai in rete! Gli avversari possono solo prendergli il numero di targa a questo punto. Grande azione. Tutta la squadra si è mossa perfettamente. Con i tempi giusti. Ha sfruttato nella maniera migliore questo contropiede. E l'ora è un dominio assoluto. Bella apertura. Si libera la grande. Conclusione. Ce l'hanno fatta! Sembrano avere il totale controllo della gara. Fabio stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. Il risultato è ormai assolutamente impossibile da ribaltare. E' davvero una bella serie di passaggi questa. Messi. Messi. Al tiro. Goal! Rete importantissima! Era smarcato. Non si è lasciato scappare questa grande occasione. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Con questo gol dimostrano quantomeno di non aver staccato la spina mentalmente. Cristiano Ronaldo perde il duello fisico con l'avversario. Palla in profondità sulla fascia. Se ne va. Tenta la conclusione. La sfera entra in porta. Non si fermano più, gli avversari hanno il volto della disperazione. Sì Fabio, e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo. doppietta per lui. Grande impatto sulla gara. E l'ora è un dominio assoluto. Messi. 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 Cerca la profondità. Sulla fascia. Messi. La mette dentro il risoterra. Allarga sulla fascia. Cristiano Ronaldo. Scatta verso il pallone. Cristiano Ronaldo. Può calciare. Riesce ad intercettare. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Intervento scorretto. che non sfugge certo al direttore di gara. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo. È giallo. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio. Questo fallo doveva essere evitato. E' stato una gara entusiasmante, è stata una gara entusiasmante ma imprevedibile. E credo lo sarà anche nel secondo tempo. Primo tempo davvero pirotecnico. Con una differenza però tra le due squadre che appare abbastanza evidente. E iniziano i secondi 45 minuti. Cristiano Ronaldo. Ha già lasciato il segno oggi. Palla in profondità sulla fascia. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Messi. Messi. Palla larga in profondità. Messi. Scatta verso il pallone. E passa. C'è la palla lunga in avanti. Opportunità di ripartire. Prova con la palla lunga. Ed ecco il cross. Prova di testa. E supera il portiere. In sacca. Un gol molto importante. Ne segnano un altro e adesso piove su bagnato. Se continua così i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere. Ma il risultato è giusto. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Messi. 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 Il vantaggio trovato ad inizio del secondo tempo non deve condizionare l'atteggiamento tattico. Messi. Ha segnato. Una conclusione assolutamente imparabile. Il portiere ci ha provato ma il tiro era troppo angolato e il palo non lo ha certamente aiutato. E' poi. Di l'altro. E' poi. E' poi. E' poi. E' poi. E' poi. un gol utile da ridare morale anche se la rincorsa è ancora lunghissima Cristiano Ronaldo si avventa deciso sul pallone bello questo duello ha provato a superarlo e andare in porta il difensore però non ha boccato prova il filtrante Messi cerca la profondità sulla fascia cerca spazio ha provato l'azione individuale senza successo però Cristiano Ronaldo la difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari beh forse è per questo che hanno diminuito Cristiano Ronaldo e c'è il gol continuano a infierire su una difesa che fa acqua da tutte le parti beh devo dire che non mi aspettavo una simile batosta ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari hanno giocato una gara fantastica e sono tre e ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori è incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto provano a ripartire da dietro Messi Messi il discorso qualificazione sembra ormai chiuso la tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata se ne va prova la giocata nello spazio ecco il tiro insacca le spalle del portiere e adesso sta diventando un'umiliazione Fabio anche noi che dovremmo essere imparziali non possiamo che essere dispiaciuti per questa debacle una sconfitta del genere psicologicamente fa molto molto male Messi l'autore è di un assist oggi ciò da una palla lunga coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia Cristiano Ronaldo ci mette il piede Messi cerca l'uomo là davanti Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo prova l'inculsione in avanti continua ad avanzare verso l'aria occhio a cross ci prova il pallone è dentro disfatta di proporzioni epiche ma oggi la difesa è veramente un colabrodo si Fabio e da quello che vedo potrebbe non essere l'ultimo quarto gol ha fatto poker cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie Messi Messi la gioca sulla destra allarga sulla fascia Messi scatta verso il pallone Messi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo gli ultimi 5 minuti da giocare più eventuale recupero Messi Messi c'è fallo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo vuole il lancio filtrante e la palla finisce al portiere Cristiano Ronaldo e l'arbitro dice che può bastare molte cose positive oggi direi soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti il direttore di gara sancisce la fine qual è la tua opinione sulla gara? il gol iniziale è stato decisivo per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio